Deluso, deluso del calcio di un centro generale perché bene o male io forse qualcosa ho fatto, mi sono sempre comportato bene, poi gli altri hanno sempre da dire ognuno da loro. Ho trovato il telefono che non suonava più, perché? Perché ripeto, tante volte dire le verità fanno male a tante persone, la verità fa sempre male e io nel calcio ho detto sempre delle verità. E' amareggiato Baldo Raineri, il ticino calcistico non lo ha voluto più. Per lui non c'è più posto nel mondo del nostro calcio, malgrado le importanti esperienze maturate sulle panchine di Bellinzona in Challenge League, Mendrizio e Biasca sino due stagioni fa. Di lui, dell'aeroplanino che volava sul comunale non se ne è più ricordato nessuno, almeno sino pochi giorni fa. Sì perché fra qualche ora Baldo Raineri, assieme a Davide Bellotti, già suo giocatore in Granata, partirà per l'Albania, dove guiderà il KF Vlaznia, squadra della città di Škoder, situata nel nord ovest del paese e con 95.000 abitanti. Questa non è una squadra qualsiasi, no, è un club storico del paese balcanico. Dieci titoli di campione nazionale, sei coppe d'Albania e due supercoppe raccontano di un palmarès di tutto rispetto. Il calcio albanese non sarà forse il top a livello europeo, ma sicuramente è un movimento in crescita a cui Raineri dovrà adattarsi. Non mi fa assolutamente paura perché poi alla fine, sai, il calcio è uguale un po' da tutte le parti, devi solo saperti adattare. In Albania, in certe circostanze, come dicevo prima ai collaboratori che ho, dobbiamo anche adattarci perché magari andiamo incontro a situazioni che magari qua in Svizzera oggi non ci sono più, ma 28 anni fa quando sono venuto in Svizzera c'erano le stesse problematiche. Ma come ha fatto il buon Baldo a trovare un ingaggio nel paese balcanico? Ce l'ha spiegato lui. Ci vado con un altro personaggio discusso in Ticino che si chiama Roberto Lava, persona che anche lui come me forse, perché è diretto su determinate cose, ha preso anche determinate bastonate, ma vi garantisco che in Albania è uno che è abbastanza rispettato e poi il passo che sta facendo è importante, perché la società è importante, l'acquisto è stato lungo, è faticoso e alla fine ce l'ha fatto perché veramente la società era ambita da tante persone e alla fine l'ha spuntata lui.